Il Comitato per le opportunità dell'Ordine degli Avvocati di La Mezzia Terme ha inteso in questa occasione organizzare un convegno sul bullismo e cyberbullismo. In un'epoca in cui ogni cosa ha la sua versione 2.0, purtroppo anche un fenomeno sociale, quello del bullismo, si è trasformato in un fenomeno telematico, quello del cyberbullismo. Oggi durante l'incontro avremo magistrati, avremo gotti di tribunali di minori, avremo forze dell'ordine e istituzioni che verranno a parlare di questa tematica e soprattutto di quelle che sono le tutele attuate oggi a seguito dell'introduzione della nuova legge del maggio 2017. Grazie